Batterie del contesto parte 3. Oggi però non suono io. Abbiamo uno dei batteristi rock diciamo più quotati degli ultimi anni che è il signor Dave Grohl che ha registrato questo brano lungo 23 minuti di questo progetto chiamato Play per in pratica incitare un po' in questo periodo storico i musicisti a suonare di più e in pratica se non l'avete visto se non siete a conoscenza del progetto parla di tutto quello che è il produrre una canzone il registrare una canzone perché il filmato è registrato l'East West Studio di Los Angeles e quindi tutti gli sforzi in pratica tutto quello che non si vede prima di ascoltare un disco tutti gli sforzi tutto veramente il lavoro che c'è perché Dave Grohl ha assumato tutti e sette gli strumenti chitarre, bassi, batterie chiaramente per prime percussioni, piano, strumenti che non sapevano nemmeno suonare quindi c'è un sito web dove si possono scaricare gli spartiti, fare del play along insomma ed è un progetto molto interessante. Tutto questo è stato registrato un anno e mezzo fa ed è uscito il 9 agosto del 2018 ma perché ne parlo? Perché abbiamo due tracce su YouTube una chiaramente di tutta la lunghezza del brano che dura 23 minuti e dove Dave Grohl ha fatto un take unico quindi il challenge era anche questo, fare un take unico dall'inizio alla fine senza fermarsi e c'è anche la traccia isolata di batteria quindi adesso cosa facciamo? Sotto se siete su YouTube o sopra se siete su Facebook io vi metto i link il primo link è quello della batteria isolata quindi tutta la traccia di 23 minuti vi mettete con calma sempre con le cuffie o un monitor da studio dove sentite bene e vi sparate una mitragliata di Dave Grohl che fa sempre bene che passa fra tre diversi tipi di batterie per avere tre diversi tipi di suoni per questa concept song, non so come definirla poi se volete c'è il link che vi lascio sotto dove c'è l'intera canzone quindi potete sentire i suoni da soli di batteria e poi i suoni nel contesto che è una cosa molto molto interessante sempre con calma e ascoltate bene però al posto di fare il solito spiegone di tutti i vari rulanti, piatti, batterie utilizzate ve lo ascoltate e se c'è qualcosa che vi colpisce mi scrivete qua sotto nei commenti che cos'è quello o che cos'è quell'altro io vi rispondo, quindi se c'è qualche suono che vi intriga qualche suono che vi piace di più, qualche accordatura, che charleston è insomma io vi posso dire in pratica tutto non c'è una lista degli strumenti però ormai diciamo che ho aggustato la vista quindi bene o male guardando bene si capisce anche se è in bianco e nero quindi un pochettino più fatica è anche un ottimo modo per vedere il modo di suonare di Dave Grohl da vicino che non è una cosa da poco con telecamere solo e esclusivamente su di lui con la batteria isolata e ci sono dei bei suoni e vi dirò di più, da quello che si sente il suono non è manipolato chissà quanto, anche perché lui non è molto a favore di sta cosa uno di quelli che diciamo è rimasto un po' più old style non che sia meglio o peggio, per carità è una scelta che però io condivido, mi piace un po' più la naturalità e la ricerca del suono ma lo sapete già quindi i suoni che sentite, tutta l'aria che sentite chiaramente è la sala, lo studio A dell'Istway studio che è enorme quindi i room mics, i close mics sulla batteria chiaramente lì c'è tutto il top del top che si può avere in questi studio però io vi posso anche dire un po' per esperienza che il suono della batteria è abbastanza naturale e c'è una bella ricerca le batterie non sono sue, se vi interessa vi dico di chi sono dove trovare cose varie e ci vediamo comunque sì la prossima settimana per il prossimo update sempre delle batterie nel contesto fatemi sapere, a presto! grazie! 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 grazie!